musica 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 e bellissima a tutti ragazzi 20, io sono allo sparta e ci siamo su minecraft facciamo un po' volume ok per prima cosa io direi che io avrei anche le mod però mi laga troppo e quindi usando le mod mi sono perso tutto l'inventario che ho preso e vi ricordate se vi ricordate guardate il mio video scorso ok che cosa faremo oggi andiamo a fare la casa lì in alto perchè io io gli ho chiesto dove devo farla e voi mi avete sposto lì e anche andiamo un po' a modificare per lo spawner qui adesso per prima cosa andiamo bestia andiamo a farci la casa e metto un po' off camera ma per voi ma per voi sarà tipo 1-2-3 secondi e io intanto tolgo tutti gli alberi che ci sono qua c'è una bella cetta la prima del sopra così mi mostro un po' il paesaggio che c'è da sopra però sono riuscito a farmi comunque un crafting table una cesta due in realtà per le ceste quelle la c'erano già quindi tranquilli però tipo il letto non lo sono craftato le piccole il cibo non lo sono preso quindi tranquilli ok facciamoci subito delle cose mi sembra ancora i vecchi tempi ragazzi che non avevo niente vabbè adesso faccio qua per la intro credo che facci oggi mi spiace tanto e anche per perchè si vede quella scritta scusate lì in alto c'è in mezzo qui però scusate intanto sti 5 legno poteva bastare per farci una bella cetta di pietra se possibilmente quindi adesso cosa facciamo facciamo tipo una cosa del genere trasformiamo questa faccio delle cose faccio un bel piccone ok fatto qui sotto ho visto della cobblestone magari senza ammazzarci grazie ok e per lo spawner dopo lo andiamo a sistemare tranquilli ne prendiamo 6 così anche di più per farci un po' un po' tutto l'equipaggio c'è un'accetta anche due accette una spada un piccone e questo faccio questa riga basta e comunque per lo spawner dovrebbe essere comparso molti scheletri adesso andiamo a vedere sul salto perché praticamente l'ho fatto e anche mi ha dimenticato divi perché la c'è anche un coso un coso si capito tutto no? un burrone quindi dov'è una bella cosa bella 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 mettiamo tipo nel cesto qui ok facciamoci le robe di pietra avanti un bel piccone altri altri scusatemi ecco qui guarda qui cosa facciamo facciamo due accette un bel piccolo se ci riusciamo qui due accette fatte e anche una bella spadocchia ok metto e ci vediamo tra poco quando ho finito di pulire tutto e rieccomi ragazzi come vedete ho spiato tutto qui questa parte e anche tutti gli albi una fatica tremenda ragazzi due accette ho consumato ok adesso lo volevo vedere per i per i per i per i scheletri per i scheletri riesco a faccio vado nel coso e faccio una cosa vedo se se ci sono i scheletri o no il perché non ho portato una spada ragazzi dobbiamo fare senza morire sicuro le torce posso prendere le torce è vero ragazzi questo qua è sabbia ok ne sono accompagnati a migliaia lo so adesso vediamo 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 no 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 scherzo forse 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 sì forse forse no forse sì ok non è comparito nessuno per fortuna ok adesso abbiamo un po' di blocchi no facciamo una roba del genere no e devo prendere anche il coso vada facciamo anche spoglio intanto tipo una roba del genere può bastare però si può bastare ok perfetto ragazzi quindi ehm mi ne ho chiuso poco intanto facciamo la nostra casa no non posso neanche fare la nostra casa perchè ho bisogno anche di un altro legno scusate però non bisogna anche un altro legno quindi mi spiace tantissimo e se per caso sentite un rumore di trattore e abbiamo fatto state tranquille da 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 vediamo qua di semi con le osse posso fare il bum bum mia e quella pala perchè la pala perchè noi siamo pro insomma no noi con la pala facciamo gli alberi cosa cioè no facciamo tagliamo gli alberi perchè ovviamente la citta non ci interessa facciamo la pala non è per tagliare gli alberi no? non andare per andare per andare ehm non andare per andare per andare ehm non andrò a farti con la scala qui quindi quindi andrò a prendere la citta ehm faccio un altro po' off camera per andare per andare per andare per vi dico quali alberi mmm quelli lì quei la marroni il fiorellino qui ecco come vedete ragazzi ho fatto una bella scorpacciata di 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 legno aspettate faccio un'altra citta mi basta perfetto però che la spada e il piccone che si chiesa no? ok adesso facciamo una cosa del genere un'altra citta siamo posto ok ci vediamo fra pochissimo e eccomi qui ragazzi ehm sono stato appena un bel po' di legna ehm non ho appena le mie torce e tutto ok e anche se sono spawnati questi mediti mediti scherete spero che si ma probabilmente è buon mille sentiamo non spona non spona bestia io non ho detto niente tranquillo non ho detto niente non potete anche non sponare ragazzi ragazzi aiuto ragazzi crepa di un colpo crepa di un colpo felicità muori di un colpo crepa di un colpo felicità che c'è nessuno vero ciao amico mio vedi su un blocco all'attacco vorrei dirmi quel colpo ragazzi non so mica perché se ne ho compasso così improvviso ok qui sta per spawnare ecco lì ok 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 adesso metto solo un blocco vediamo se spawn comunque dopo per fine per fine video lo lo lavoriamo intanto cosa cosa che volevo fare intanto mi devo lavorare per questo carbone un pochino solo ragazzi tranquilli ok prendo questo qui magari anche questo facciamo quindi lo pedo in tutto così meno ho un po' di carbone per un po' ma anche quello può fare dai ok abbiamo anche sto cobysor perfetto ora togliamo dentro casa che doveva essere qui perché sto usando la spada non c'è la spada per niente qua lì qui la nostra vecchia casa ragazzi ok fermarci la torcia incredibile forza ci stiamo facendo no come no come no 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 ragazzi abbiamo l'arco abbiamo l'arco perfetto perfetto dov'è la nostra casa eh allora lina cavolo possiamo correre non mettiamo uno solo eh magari se non morisci no allora dai non fai stupidaggini ma siamo in difficoltà massima sì ma perché non vediamo nessun mostro nessun mostro certo nessun mostro è ancora molto strano comunque è meglio per noi mettiamo una bella scaletta sì magari non complicandoci la vita mmm così scherzavo meglio fare così ok ancora il mio letto mi sta aspettando mi sta dicendo ah lo vieni qui sul letto tranquillo ok 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 vediamo quella storia no beh possiamo perdere facciamo una cosa così ma vai a dormire scemo non sei scemo dormi ah ecco perfetto non so perché ho fatto uno screenshot ma vabbè ok adesso possiamo fare la casa ragazzi posizioniamo le nostre cose in aria ecco qui vediamo il nostro carvone e il nostro manzo ok ragazzi abbiamo l'arco però devo farlo meglio con con tutto insomma allora spingiamoci tutto il legno possibile e ci trasformiamo boom boom e boom ok abbiamo un pochino il legno che cosa facciamo direi di fare tipo una cosa una casa di montagna poi c'è un'altra cosa qua c'è un'altra cosa qua c'è un'altra cosa qua c'è un'altra cosa qua c'è un'altra cosa non basta e non so se faccio un taglio qui credo o no comunque c'è per prendere soltanto ci bastano circa una sessantina si giochi facciamo presto a falli tranquilli felicità brutto scheletro brutto scheletro brutto scheletro felicità sentite mio fratello sta delirando con un gioco tranquilli quanto siamo 23 facciamo presto vedete ragazzi ok ragazzi ehm vediamo cosa posso parlare domani c'è il video di water word of tanks spero che lo conosciate mantenersi che è abbastanza famoso non dico che sia il massimo di famosità che dov'essi essere abbastanza famoso ok siamo già arrivati qui perfetto 42 ci manca poco ragazzi ok ok domani c'è quello di quello di non mi ricordo what no di clash ecco spero di prendermi il telefono nuovo dentro l'uid perchè possiamo poter tornare a casa poi l'altro pochino apposta ok adesso torniamo su proviamo a fare una bella scaletta pochettamente se vuoi sapere tutto abbiamo anche del bombi albero quattro ossa quattro portare 12 ok quanti semini ho? 1 no 10 lavoro giappo a vigna però lo facciamo dopo via tutto ok adesso io ve lo fa tipo una cosa del genere mettere tipo una cosa del genere ragazzi ci riusciamo a farlo ragazzi ho sbagliato subito lol fail già da subito ok ok talalala 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 adesso ti voglio fare una cosa del genere live così spero che i bassi i blocchi ma in teoria sì facciamo così do un metro alto a terra lì adesso la metto subito direttamente faccio così metterò a posto dopo lo farò appunto per l'entrata quindi credo che la farò non so dove farlo ragazzi faccio qui dai poi lì no neanche lo faccio lì ok faccio dopo ok ok seguiamo ok ok si è abbastanza piccolino ma avrà poi un mostro di altezza tranquilli ragazzi ok adesso facciamo tipo va bene un fortecino una venta con queste due e fa tipo una lunga ma salve ho la spada no ehm scusa mi daresti la tua armatura perchè mi servirebbe la spada no fin qua per la mia no che fail ragazzi che fail su ormai ho la roba che figo cosa è bella roba anche se muoio non so perchè ragazzi forse no non so mi scomparso scherza un amico dov'è ragazzi dov'è 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 ragazzi dov'è ragazzi è invisibile questo posto invece ok ok bestia ma guarda che roba stupido stupido creeper beh una bella cosa è che non so perchè se c'è messa quella roba quindi sta anche lagarmi sta lagando a morte e quindi ragazzi ah no 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 niente scherzato ecco mi smessi lagarmi non so perchè mi riesco forse intanto tutto in cesta è una cosa bella non so perchè però non mi non muoio io non ho fatto niente lo giuro ci sarà baggata una cosa del genere beh è una cosa molto bella che che so anche se muoio se muoio muoio c'è che se muoio ho la roba una cosa bellissima ragazzino quindi ho lo spawn pronto e quando muoio ho tutto e vi giuro che io non ho fatto niente ve lo giuro perchè se è una serena sembra anche impossibile io lo giuro che non ho fatto niente esperienza però c'è un'esperienza wow una cosa bellissima perchè il baggato può essersi si credo di no perchè praticamente si bug una cosa del genere ok il mio caso è finito ragazzi uno stack già fatto di legna e solo per fare più accosto ok già per fare il pavimento così se è molto zecco ok quasi fatto costruiamo la casa che bello questo video non so quanto è durato credo spero poco per voi perchè siccome che alcuni si lamentano sempre del tempo e di fare altre così ok fa male però quindi facciamo tipo una cosa del genere uno due così e allora spero che non sia troppo lunga per per quelli che che non vogliono il video lungo ok comunque ci sta vedendo molto bene nella casa ve la mostro anche ok magari poi facciamo il legno facciamo tipo una cosa del genere bum bum sarà molto carina fino in fondo là sarà molto carina ok la farò off camera se volete oppure la farò come vuole e ci metterò la scale che sarà molto più carino ok parapapa e ragazzi vi ringrazio molto per le 52 visualizzazioni in teoria perchè praticamente un mio amico questa mattina che 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 avevo sul sui video della spawn la di Minecraft survival ehm 52 visualizzazioni quindi vi ringrazio da morire ragazzi grazie mille stavo andando alla grande ehm un mio amico cioè è solo un'idea e saliamo a 50 iscritti e per la feste per per festeggiare la fine della scuola farò in creative una casa completa di TNT e dopo la farò esplodere con voi vi piace l'idea? spero di si ehm meh sono malbaglio sono malbaglio se certo malvagio un saltino via che fede proprio con quei creeper ragazzi e poi lo zoom mi picchiava se non lo vedevo rispondetemi nel commento mi raccomando ok stiamo quasi per finire facciamo un altro strato poichè mi sembra molto buono a voi? dopo magari per finire visto che la roba cioè la teniamo sempre possiamo andarci a buttare lì ok dite? siete contenti? ok via un altro strato magari ok ok 1 2 3 poi off camera la finirò ovviamente mmm si sarà molto spero molto carina sarà tutta bella ordinata con dei quadri magari poi sarà anche un po' piccola mmm non lo so non lo so ragazzi forse è un po' piccola ma 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 non ci può bastare perchè sospettivamente sottoterra ci sarà una cosa ancora più bella farò un tipo mmm non questo aspetta 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 un po' il canyon ci devo buttare ok interessante funghi è già una bella roba carbone perfetto non importa a noi perchè perfetto magari se esponassi oh letto se esponassi lì insomma dentro sembra anche una bella migliore cosa adesso lo portiamo dentro facciamo così dove sei ho ma io l'ho preso ragazzi non mi aspetta no scherzato ho letto ho paura di usarlo comunque per l'angry games anche mi salta molto bene e mi piace stanno bellissimo quindi ragazzi viene grazie da morire perchè senza di voi davvero non ce la faccio quindi grazie di cuore ok adesso prendiamoci queste belle cosette mettiamo così mettiamo una qua così qua così qua così qua così e infine ah no perchè non so ok devi fare già il tetto devi farlo così e spero di ci basterà 48 si ci basta no ok in maria se vuole 8 qui 8x4 6x7 8x9 10 11 eh unici però 88 non ci basta per niente ah forse si ok ah si no scherzato no devo fare uno più giù ah no scherzato 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 ok ci sono andato corte 1 con il cotone certo parla 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 beh facciamo off camera e ci vediamo quando è finita ragazzi non so ho un po' fatto le scale sono andato abbastanza anche bene però non ce la faccio più ragazzi ci sono messo due ore per fare sto cosa questo video per fare la casa per i materiali e tutto quindi adesso esplorando un po' quella lì questa cosa e comunque l'ho risolta il problema del coso del del coso insomma da zombie invisibile era invisibile veramente non so perché però comunque se si uccidono e mi ha questi due ok c'è l'acqua quindi adesso provo ad andare ragazzi intanto le robe ce li anche se ci muoio ce li ho quindi ok ok c'è del ferro questa è una buonissima cosa tanto ferro ok perfetto questa è una buonissima cosa ragazzi signor no ok ok qui c'è tipo una bella una breve scaletta facendo così alla cavolo e dopo possiamo concludere il episodio ok sento dei rumori sento dei rumori sento dei rumori ciao vedi più vicino dammi l'arco dammi l'arco dammi l'arco ok 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 c'è quel piccolo c'è anche il creeper ma quanti quanti cavolo ce ne sono quanti cavolo ce ne sono sono morto vabbè sono morto ragazzi se ti bello conoscere qui no 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 vai insieme vai insieme vai insieme non spararmi non spararmi non spararmi vai nooo eh va bene ragazzi ci abbiamo provato come il mio letto è vissuta mancante di tutto non è vero vabbè non importa comunque ragazzi sta vedendo bene la nostra casa si vede molto farò il tetto di questo legno di legno scuro così si vedrà moltissimo dopo dentro si trovi anche una bellissima cosa farò un po' delle scale dappertutto in modo che si possa salire non so se si può usare come palladine ok ragazzi e così concludo l'episodio mettete un like e un mi piace ricorda che domani c'è UOT e bella ragazzi alla prossima